Siamo ancora indietro. Si possono sintetizzare in questo modo i dati riguardanti il numero, la potenza installata e la produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Lo confermano i dati recentemente pubblicati dall'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, aggiornati al 2022. Con appena 1,7 impianti fotovoltaici ogni chilometro quadrato, Belluno e Fanalino di coda a livello Veneto, dove la media è di 9,8 e dove spiccano Padova e Treviso, che ne contano rispettivamente 17,8 e 15,6. Lontano anche il dato medio nazionale che si attesta a quota 4,1 impianti per chilometro quadrato. In questa speciale classifica il nostro territorio fa meglio però di Bolzano, dove la densità è di 1,5 impianti a ogni chilometro quadrato, ma dove la potenza installata è doppia, 0,6 kilowatt per abitante contro lo 0,3 di Belluno. Per non parlare della produzione totale, calcolata per kilowattora per abitante, i vicini altoatesini ne producono 565,1 contro i 306,7 di Belluno. La nostra provincia, anche in questo caso, si attesta non solo sotto la media regionale che è di circa 517 kilowattora per abitante, ma anche sotto quella nazionale che è di 469,5. A Belluno gli impianti fotovoltaici a fine 2022 erano 943, un dato in crescita rispetto ai 787 dell'anno prima, con una potenza installata di 6,4 megawatt e una produzione totale di 6.314 megawattora, pari al 10,4% dell'intera produzione di energia elettrica provinciale. Ed è qui che il nostro territorio si rialza. Il dato è in linea con la media delle altre province venete, tra le quali spicca Padova, con il 14,5% dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici, ma davanti a Bolzano che produce solamente il 7,3% della sua energia grazie al sole. Anche se, in ultima analisi e per onestà intellettuale, non si può trascurare il dato totale. L'Alto Adige ha prodotto nel 2022 22.062 megawattora di energia green da fotovoltaico.